Sono terrorista Fa un bel giunto per la parte della linea, sono lì Sono terrorista San sottotitolo San sottotitolo Amma I am a a a a a a a a b I am a 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 b Grazie per la visione